Quasi sicuramente anche tu hai in un cassetto, in un armadio, in un ripostiglio o in uno scantinato un vecchio computer che hai quasi deciso di buttare ma ancora non lo hai fatto. Da un lato perché magari ci facciamo prendere tutti da un po' di pigrizia e dall'altro perché diciamo la verità ci affezioniamo anche ai computer. Bene oggi voglio mostrarti un qualcosa che è in grado di dare veramente nuova vita al tuo computer e no non sto parlando di una linux box. Che cos'è una linux box? È un computer windows su cui si decide di installare linux perché essendo un sistema operativo notoriamente più leggero lo rende un pochino più veloce. Però diciamo la verità non tutti hanno piacere di usare linux, non tutti lo sanno usare e soprattutto non tutti i programmi windows girano su linux. Quello che voglio mostrarti oggi è qualcosa di completamente diverso. È una versione di windows leggerissima che tu puoi installare su un computer vecchio oppure semplicemente su un computer lento e che ti consentirà di portarlo a nuova vita regalandogli ancora tanti anni di utilizzo. Allora ti senti pronto? Iniziamo. Ed eccoci qui. Per la missione di oggi avremo bisogno di tre strumenti. Il primo è un pendrive. Le dimensioni non sono tanto importanti. Va benissimo un pendrive anche da 2 gigabyte. Non importa perché quello che andremo a scaricare e mettere sul pendrive è davvero molto piccolo e molto leggero. La seconda cosa che ci servirà è uno strumento che si chiama Rufus che ci servirà appunto per installare l'immagine di questo piccolissimo windows che sto per mostrarti sul pendrive rendendolo avviabile in modo da poterlo installare sul nostro computer. Andiamo a procurarci Rufus. Per farlo apriamo il nostro browser, andiamo sul motore di ricerca e scriviamo semplicemente Rufus. Come sempre il primo risultato è quello che ci interessa. Clicchiamoci su e scendiamo in basso nella pagina fino alla voce download dove andremo a scaricare l'ultima versione di Rufus. Ci va bene il primo risultato, quello scritto più in grande, che nel mio caso si chiama Rufus 3.21. Come sempre ti avviso che probabilmente il numero che troverai tu potrebbe essere più elevato se nel frattempo saranno uscite nuove versioni. Clicchiamoci su. Chiudiamo la pubblicità che eventualmente si dovesse aprire e vediamo che il nostro Rufus viene scaricato in un tempo veramente breve. Andiamo ad aprire la cartella, rimpiccioliamo il browser e trasciniamo Rufus sul nostro desktop. Eccolo qui. Torniamo nuovamente sul browser e andiamo a procurarci il terzo ed ultimo strumento di cui avremo bisogno. Ora ti premetto che di questo strumento esistono due versioni. Esiste un Windows 10 ridotto all'osso e un Windows 11 ridotto all'osso. Quest'oggi io ti mostrerò la procedura effettuata su Windows 10 per due motivi. Il primo è perché è ancora più diffuso di Windows 11 e il secondo è perché è più leggero rispetto a Windows 11 e quindi su macchine poco performanti è quello più indicato da installare. Ma ricorda che la procedura è praticamente esattamente la stessa anche per Windows 11 qualora decidessi di volere un sistema operativo un pochino più aggiornato sul tuo computer. Quindi andiamo nella prima riga in alto questa qui e andiamo a scrivere tiny 10 wayback machine. Premiamo invio ed eccoci qui. Come sempre il primo risultato è quello che ci interessa creato dal nostro amico NT dev. Clicchiamoci su e una volta arrivati su questa pagina ci basterà scendere un po' in basso fino alla riga che dice ISO image. Come vedi ci sono diverse versioni. A seconda che tu abbia una macchina che ha un processore a 64 bit oppure a 32 bit sceglierai la seconda nel caso di 64 bit oppure la prima opzione nel caso di 32 bit. Se sei in dubbio puoi scegliere comunque la versione a 32 bit. Io quest'oggi sceglierò la versione a 64 bit. Clicchiamoci su e attendiamo la fine dello scaricamento del file che potrebbe impiegarci un po' di tempo dato che il file è di quasi un gigabyte come dimensioni. Ed ecco fatto. Andiamo nuovamente ad aprire la cartella. Chiudiamo questa volta il browser e portiamo il nostro Tiny10 anche lui sul desktop. Chiudiamo la cartella e andiamo a vedere come preparare il nostro pendrive. Ma prima di tutto inseriamolo nel nostro computer. Benissimo. La prima cosa da fare a questo punto è aprire Rufus, concedergli di apportare modifiche al dispositivo. Essendo stato appena scaricato non sarà il caso di andare a controllare gli aggiornamenti quindi clicchiamo pure su no e prendiamo il nostro Tiny10 e trasciniamolo all'interno della finestra di Rufus. Come vedi Rufus ha già scoperto che abbiamo inserito una pennetta che è quella su cui avevo installato l'Irens Boot CD l'ultima volta che vogliamo trasportare l'immagine di Tiny10 su questa pennetta e lasciamo stare tutti gli altri parametri esattamente come sono. Rufus ci indica che è pronto ad eseguire la nostra operazione quindi non ci resterà che cliccare su avvia e andare a personalizzare leggermente la nostra installazione. Quindi clicchiamo su crea un account locale e scegliamo come nome il nome utente che preferiamo. Io ci metterò Vito. Dopodiché selezioniamo questa opzione per scegliere le opzioni regionali esattamente come sono impostate su questa macchina quindi la nostra nazione, il fuso orario e così via. E infine andiamo anche a disabilitare la raccolta di dati personali. Clicchiamo su ok. Clicchiamo su ok stando bene attenti al fatto che tutti i dati presenti sul nostro pendrive verranno cancellati dopo questa operazione quindi facciamo la massima attenzione al fatto che il nostro pendrive debba essere vuoto o che debba contenere dei dati non importanti perché appunto veniamo informati da questa finestra che tutti i dati presenti sul pendrive verranno cancellati dopo questa operazione. Quando siamo certissimi clicchiamo su ok e attendiamo alcuni minuti il termine della preparazione del pendrive. Eccoci qui il nostro pendrive è pronto quindi possiamo cliccare su chiudi e prima di staccare il nostro pendrive per andare a collegarlo sul pc dove vorremmo installare il nostro tinyten c'è un'operazione che ti consiglio vivamente di fare che è questa. Apriamo il browser, torniamo sul motore di ricerca e cerchiamo scaricare chrome. Anche se c'è scritto annuncio andiamo a fare click sulla voce che dice scarica ora per andare a scaricare una copia di google chrome che andremo ad installare sulla nuova macchina perché devi sapere che essendo ridotta all'osso manca anche un browser una cosa veramente fondamentale senza la quale secondo me non ha quasi senso avere questa macchina a meno che tu non voglia tenerla disconnessa da internet e utilizzarla solamente ad esempio per usi di ufficio. Quindi clicchiamo su scarica chrome e una volta che ci saremo procurati il nostro file andiamo a fare click su mostra nella cartella e spostiamolo nel pendrive che abbiamo appena creato. potremo anche trascinarlo direttamente di qui sul nostro tinyten x64b4. Lo lasciamo andare e se apriamo tinyten ci accorgeremo che adesso il nostro file chrome setup è presente. A questo punto possiamo chiudere, disconnettere il nostro pendrive e andare a collegarlo alla macchina su cui vorremmo installare tinyten. Ed eccoci qui nella nostra installazione di tinyten. La prima cosa che naturalmente dobbiamo fare è di accertarci dopo aver inserito la chiavetta nel nostro computer di effettuare l'avvio da quel dispositivo quindi dal pendrive che abbiamo creato che contiene i file di installazione di tinyten. Fatto questo ci ritroveremo davanti questa prima schermata. Andiamo a cambiare il formato dell'orario quindi portiamoci alla lettera I e scegliamo Italia e lasciamo il layout di tastiera naturalmente su italiano. Clicchiamo su next e clicchiamo su install now. Aspettiamo alcuni secondi che il setup si avvii. Se dovesse comparirci questa schermata è perché ci viene richiesto il product key di Windows. Ora è possibile che questo sia incollato su un'etichetta sotto il tuo computer oppure che tu abbia una scatola con un numero seriale di installazione. Se questa schermata non dovesse comparirti nessun problema significa che Windows ha individuato automaticamente il tuo numero di serie. Se non dovessi riuscire a trovare subito il tuo numero di serie non c'è problema potrai inserirlo in un secondo tempo. Ci basterà cliccare su I don't have a product key. A questo punto accettiamo i termini di licenza. Clicchiamo su next e clicchiamo su custom. Attenzione se stai utilizzando una macchina che avevi usato in precedenza è possibile che quel disco contenga dei dati. Quindi prima di procedere con l'operazione che sto per spiegarti assicurati che non ci siano quantunque magari vecchi dei documenti o probabilmente delle fotografie a cui tieni e che potresti cancellare per sbaglio. Quindi assicurati in sostanza che non ci siano dati importanti sul disco perché li andremo a cancellare. Quindi dovremo individuare tutto quello su cui c'è scritto partition e cliccare su delete e successivamente su ok fino a quando non ci resterà solamente dello spazio non allocato sulla nostra unità disco. Quando la situazione si presenterà più o meno in questo modo selezioniamo lo spazio non allocato e clicchiamo su next. Attendiamo alcuni secondi il termine di questa operazione. A questo punto per risparmiare tempo clicchiamo su restart now. Attenzione la macchina durante l'installazione verrà riavviata più volte. Quando compare questa schermata che vedi in questo momento non sarà necessario premere alcun tasto. L'installazione proseguirà sempre da sola autonomamente. Bene, è arrivato il momento di personalizzare il nostro Windows. Scegliamo l'Italia e clicchiamo su yes e scorriamo in basso fino alla lettera i per selezionare la nostra tastiera italiana. Non desideriamo aggiungere un altro layout di tastiera, quindi clicchiamo su skip e attendiamo alcuni secondi. È possibile che un paio di volte ti compaiano errori di questo genere. In questo caso nessun problema e nessuna paura. Sono componenti che sono stati rimossi perché non necessari e quindi ci basterà cliccare su skip in fase di installazione. Digitiamo il nostro nome utente, quello che vogliamo utilizzare in futuro su questo sistema e se lo desideriamo scegliamo una password. Io a queste domande rispondo sempre di no, cioè clicco la seconda voce. Sono sette domande, ti basterà per sette volte cliccare la voce più in basso. A un certo punto è possibile che lo schermo resti nero per alcuni secondi e tutto quanto normale l'installazione di Windows procede comunque. E il nostro sistema è stato installato. A questa domanda possiamo rispondere di sì se vogliamo condividere in rete le nostre risorse e dovremo attendere un tempo piuttosto lungo che Windows termini e quindi tutte quante queste operazioni che sta compiendo. Sono tutte quante operazioni di aggiornamento e installazione di pacchetti che servono per il suo funzionamento. Eccoci qui. L'installazione è terminata. Il consiglio che ti do è quello di riavviare a questo punto la macchina per poi procedere con l'installazione di Google Chrome. Andiamo sul pulsante Start, andiamo su Windows System, apriamo il nostro File Explorer, portiamoci sul nostro pendrive e andiamo a lanciare l'installazione di Chrome. Ed ecco qui il nostro Chrome installato. Come puoi vedere nel frattempo si sono anche aggiornati automaticamente i driver video, per cui adesso possiamo godere della nostra visualizzazione full screen, cioè a tutto schermo del nostro sistema operativo che ora è in grado anche di navigare in internet. Utilizzando Tiny10 così come arriva potrai pensare che sia un filino troppo scarno, ma non dimenticare che c'è la possibilità come ti mostrerò a brevissimo di installare su di esso una serie di software estremamente leggeri tutti quanti gratuiti e farlo anche in maniera automatica e velocissima. Ti garantisco che ho provato Tiny10 su delle macchine che erano letteralmente da rottamare e che sempre mi ha dato buoni risultati. Anzi, devo dire che alcune volte, e qui rischiamo di far arrabbiare i puristi di Linux, Tiny10 ha vinto nel confronto di velocità anche rispetto a distro Linux molto performanti come ad esempio Linux Mint. Bene, a questo punto, prima che qualcuno si arrabbi davvero, non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima.